Questo video durerà pochissimo, quindi in questo video vi spiego solo dove trovare questa turbina o fiamma. È molto semplice, dirigetevi qui in questa zona, avanzate da questa parte e se trovate quel riccio, distruggetelo, quello scarabello che sta trasportando quella palla di cespuglio, la distruggete e vi darà quell'incantesimo. Molto semplice, cioè un video di pochi secondi, ma vabbè, l'ho fatto subito, subito, perché se tu stai cercando un video tipo Dov'è questo incantesimo? Ma dove sta? Cerco, 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 eccolo qua, 20-30 secondi, hai fatto, molto semplice. Quindi l'ho distrutto, turbina o fiamma e niente, se vuoi continuare a guardarlo perché questa terra non l'ho mai esplorata da questa parte, Quindi c'è un baule, anzi ci sono due bauli dove trovate una spada di merda che si trova all'inizio quando inizia a giocare E una setta ludica. Quindi grazie a tutti per questa visione, iscrivetevi al canale, lasciate like, attivate la campanellina E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, un brevissimo video, se volete altri incantesimi li troverete sul mio canale Quindi grazie veramente per il vostro supporto, per quelli che sono iscritti al canale, per quelli che lasciano like, per quelli che hanno attivato la campanellina E stanno guardando i miei video ogni volta che ricevono la notifica, quindi grazie, grazie a voi E niente, grazie a tutti per questa visione e ci vediamo ad un prossimo tutorial di Elden Ring Ciao